Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Contagi in aumento in Abruzzo dove sono 3.333 casi positivi al Covid registrati oggi e il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 8 nuovi casi. Si tratta di un 73enne della provincia di Teramo e di un 80enne della provincia di Chieti mentre 6 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. Con il bilancio del numero delle vittime che sale a 3.446 da inizio pandemia. Ci sono inoltre 12.354 guariti in più rispetto a ieri, un numero altissimo che si spiega con un riallineamento dei casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo diventano così 45.427 e scendono di 9.029 casi rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero si registra invece una crescita con 285 pazienti più 10 rispetto a ieri ricoverati in ospedale e in area medica e 11 più 2 nelle ultime 24 ore in terapia intensiva mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati eseguiti 2.117 tamponi molecolari e 12.038 test antigenici con il tasso di positività al 23,54%. Nei casi positivi di oggi 549 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.009 in provincia di Chieti, 809 in provincia di Pescara e 775 in provincia di Teramo.